Si è parlato molto di Smart City, con particolare attenzione per tutti gli eventi che sono stati portati dallo studio Greengrass con Andrea Gandiglio. Dalla Smart City a una Smart Horizon, cosa ci sta prospettando il futuro? Si, sul palco del Workshop Image gli assessori con delega Smart City delle città di Torino, Genova e Milano hanno firmato questo protocollo di intesa molto importante che apre una nuova fase di collaborazione tra le tre città che più di un secolo fa erano il triangolo industriale dell'Italia e oggi affrontano queste nuove fide Smart City. Il Festival dell'architettura in città 2013 ci ha dato questa opportunità di realizzare questo allestimento multimediale che in qualche modo lancia il progetto triennale dal futurismo al futuro sostenibile, un progetto che si svilupperà su Torino ancora a novembre. Stiamo organizzando una grande mostra di opere del periodo futurista e contemporanea, sempre secondo questo filo dal futurismo al futuro sostenibile e stiamo già prendendo contatti con le città di Genova e Milano per dare un seguito nel 2014 e poi con l'Expo 2015 a questo progetto che avrà il culmine nell'anno in cui si celebreranno i 100 anni dal manifesto per la ricostruzione futurista dell'universo di Balle de Pero.